Allora direi che ci siamo, il momento dunque della sfilata, quale migliore occasione per assaporare oltre al nostro ottimo cibo un altro vanto del nostro territorio già famoso nel mondo, la moda di Luisa Spagnoli che vi presenta una collezione all'insegna della ricercatezza e dell'eleganza e adesso lo potrete vedere da soli, a tutti voi una buona visione. La sfilata di moda di Luisa Spagnoli ha messo in passerella tutto il gusto, l'eleganza e la raffinatezza di un'azienda storica italiana, leader nel settore della produzione e distribuzione dei capi di abbigliamento femminile. Luisa Spagnoli rappresenta nel panorama nazionale dell'abbigliamento femminile un marchio che ha consolidato la sua immagine e presenza nella produzione e commercializzazione di articoli di maglieria e sartoria per donna, sinonimo di un tipo di eleganza che non è mai fuori luogo. La qualità è garantita dall'impiego di ottimi filati e tessuti pregiati, a cui si aggiunge la professionalità di persone tecnicamente qualificate, l'uso di tecnologie avanzate e un attento e sistematico controllo di tutte le fasi di lavorazione. Gli abiti in passerella alla Sisi Endurance Lifestyle raccontano da soli la linea inconfondibile di Luisa Spagnoli. Gli abiti in passerella alla Sisi Endurance Lifestyle 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.